Apprezzamento per il coinvolgimento delle istituzioni nazionali nel salvataggio della realtà universitaria e blea e ringraziamenti ai vertici del Consorzio per aver tenuto fede, sino ad oggi, all'impegno di mantenere informato il movimento sugli studi del negoziato con l'Università di Catania. E' quanto afferma in una notte il comitato spontaneo degli studenti di giurisprudenza a Ragusa, che conta oltre 800 iscritti e che attende l'incontro di fine giugno al Ministero dell'Istruzione tra i vertici dell'Ateneo e Teneo e il Consorzio Universitario, accompagnato dai rappresentanti politici per puntare all'apertura delle due facoltà, agraria e compresa, per gli anni successivi al primo e fino ad esaurimento dei corsi. Un obiettivo possibile, ma che dipende dall'Ateneo catenese, che impegna il Consorzio in una difficile mediazione anche per evitare stravolgimenti in corso d'opera per lingue dal prossimo anno in sede esclusiva. Gli studenti di giurisprudenza quindi attendono notizie, al punto in cui siamo, ha commentato il coordinatore Alessandro Testone, nutriamo un cauto ottimismo circa una risoluzione positiva della questione, ben decisi però ad attendere le firme prima di cantare vittoria. Il Comitato, in attesa di risposte, invita perciò tutti gli attori e i protagonisti, al di là delle schermaglie dialettiche, alla moderazione e alla responsabilità e al buonsenso. Nell'interesse conclude il Comitato degli studenti e dell'intera comunità eblea.